Quindi Adam, la prima domanda, cosa pensi di questo gioco di rollercoaster e del grande turn around che hai fatto in questo gioco? Ovviamente, ogni volta che giochiamo in Lugano, il derby è un grande evento, molto competitivo, un gioco emozionale per i bambini. Abbiamo grandi fanci qui, è un'atmosfera hostile, è divertente da giocare perché tutti i bambini stanno battendo tutti i bambini. È un gioco in gioco, è difficile, ogni volta che perdono un gioco in gioco. Credo che il nostro team ha mostrato molto caratteristico, poter tornare da qualche gioco e battere contro una buona squadra come Lugano. Hai capito che i bambini stavano la gioco per 3,8 secondi in gioco e poi hanno iniziato il gioco con 5 secondi in gioco. Quindi hanno aggiunto 1,2 secondi, e credo che è scontato perché hai fatto il terzo gioco in gioco. Sì, questo è quello che molti persone pensavano sul nostro gioco, quindi non so come funziona. Se hanno aggiunto tempo, non so quanto tempo c'è quando hanno scontato il gioco. È stato molto vicino. Sì, è frustrante, ovviamente non so se c'è qualcosa che possiamo fare con questo ora. Quindi bisogna guardare molti positivi. Possiamo essere capito di tornare qualche gioco, come ho detto, contro una buona squadra come questo. Sì, lavorare fortemente, avere il carattere e non perderemo a noi. E sempre trovare le mani per combattere e avere la possibilità al fine. Especialmente per il loro bambino. Quindi ci sono molte cose positivi sui nostri gioco, che possiamo farlo dal gioco. Cosa credo che è anche frustrante, è che non è la prima volta che perdete il gioco nei ultimi secondi, nei ultimi minuti del gioco. Sei un leader in questa squadra. Cosa credo che puoi fare per questa squadra? Cosa credi di farlo? Cosa credi di questa situazione? Perché non è la prima volta adesso. Sì, credo che non c'è un modo facile da ridere le situazioni. C'è un modo facile da ridere. C'è più di pratica, c'è più di cose. È semplice e semplice. Quindi guardiamo le videotapie, le situazioni, e lavoriamo su questo ogni giorno, ogni settimana in pratica. E poi lo mettiamo in uso in ogni gioco. Quindi, più di cui lavoriamo, più di cui parliamo, e abbiamo esperienza in certe situazioni, più di più. e quindi non ci sono più di cose positive. E quindi, per questo, che si vedete, ci sono molte cose positivi di questo weekend. Penso che anche la Berne. Lugano e Berne sono due topte, e l'Humbre ha giocato bene contro loro. Ci sono stati giocati, quindi ci sono molte cose positive. Sì, sicuramente. Guarda le stagioni, e le due le tue 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 le tue. Quindi, non sono stati facile da giocare. Sì, hanno molto potenza di potenza, sono molto disciplini in loro sistemini, nel modo in cui giochiamo, e sono molto difficile da giocare. porca indienereci nella merda. Percome avevo saputo, come ha detto, svolgere nel luogano a Opinione cambia rispetto in queste tue le 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 tue. Una strada ancora a Banco e altrabe'm, molto starfica potenza, alaquenze cose bu volte. Sono molto importante che non si trovi in particolare, e che la nostra squadra ha capacità di continuare in realizzare. Sciamo sempre pot кожu fundamentallyare alla situazione in parte. Qualche pensate? Quando siamo arrivati al Buone Nord-America per mettere molti punti in vostra nuova avventura e diventare il top scorer? Non sapevo cosa aspettare, ovviamente c'è una situazione diversa e tutto. È stato molto divertente. Abbiamo aiutato i tanti, i staff e tutti i ragazzi del team a ringrazio perché tutti i giorni lavorano così forti, è molto divertente per arrivare alla rinca e lavorare. È davvero una squadra ferma e forte. È davvero una squadra ferma, è davvero una squadra ferma. Ciò è davvero una squadra ferma, è davvero un gioco per te, quindi credo sia un buon gioco per cercare questi tre punti. Sì, assolutamente. Qualcuno spieghi un team che è vicino ai tuoi, ci sono sempre più attenzione, perché voglio farlo o farlo o farlo tra i due. Sono sempre davvero divertenti per giocare.